Ringrazio nuovamente la Procura per il lavoro che sta svolgendo fin dall'inizio. Le dichiarazioni del Procuratore sono certamente dichiarazioni molto forti e credo che la presenza di alcuni operai irregolari aggiunge ulteriore gravità ad una situazione già molto seria. Aspettiamo ovviamente di avere maggiori dettagli dalle indagini, sapendo che noi non possiamo intrometterci, però questo ci fa capire che il tema della sicurezza si intreccia con quello della gestione corretta dell'immigrazione e non possiamo neanche abbassare la guardia su questo fronte. Volevo poi dirvi che ho appena sentito l'ingegnere Cesario, la comandante dei Vigili del Fuoco, mi ha detto purtroppo che ancora non ci sono novità nelle attività di scavo, l'ho sentita proprio pochi minuti fa e quindi confidiamo che il lavoro di Vigili del Fuoco possa procedere rapidamente con successo e si possa recuperare l'ultimo operaio disperso.